Il 14 settembre di 417 anni fa, nei pressi del fiume Tara i massafresi combattevano contro i turchi. La rievocazione della storica battaglia del 1594 sarà al centro delle iniziative del Palio della Mezzaluna, edizione 2011, presentata ieri mattina a Palazzo dei Notari Stefani. È uno dei momenti più alti della rivalutazione storica del patrimonio culturale della nostra città, ha affermato il sindaco Martino Tamburrano, che ha ringraziato gli organizzatori, l'Associazione Massafra Nostra e gli imprenditori della città che hanno sostenuto l'iniziativa. Una spettacolarizzazione giunta al quarto anno e che, dopo Siena, L'Aquila e Arezzo, quest'anno attua uno scambio culturale solidale con Barletta, città della disfida. Dell'attacco avvenuto tra Corato e Dandria nel 1503 relazionerà Victor Rivera Magos, storico e cultore della disfida di Barletta, sabato 3 settembre nella piazza d'armi del Castello Medievale. Seguirà la cerimonia di consegna del premio Palio d'Argento, che verrà assegnato a coloro che hanno lavorato per promuovere Massafra in ambito culturale, imprenditoriale, sportivo e sociale. Le Olimpiadi del Palio si terranno martedì 6 settembre, il One Day Game con inizio alle 20 alla parrocchia San Leopoldo. Qui gli atleti, dei sei rioni della città, entreranno in competizione con giochi a punti, un'occasione di aggregazione tra le comunità pariocchiali e di socializzazione per i ragazzi. Il vincitore sfilerà accanto al carroccio simbolo del comune durante il corteo storico celebrativo. La giostra dei cavalieri, la disfida, è prevista domenica 11 settembre alle 20 al campo B dello Stadio Italia. La celebrazione del Palio della Mezzaluna si terrà la domenica successiva, il 18 settembre. Ad aprire le danze saranno alle 11 gli sbandieratori di Oria in piazza Vittore Emanuele. L'araldo effettuerà lo storico annuncio a mezzogiorno in piazza Garibaldi, pomeriggio dedicato al corteo che attraverserà le vie principali della città e in serata la Corsa del Palio. Le manifestazioni celebrative si concluderanno sabato 1 ottobre con la cerimonia di consegna del Palio nella chiesa del rione vincitore.